Ciao a tutti, a Vibs N1, a Vibs N9 andremo dal scenario andiamo a vedere cosa ci aspetterà a Vibs N9 e Vibs N9 e A Vibs N9 e A C a Vibs N9 e A C Scandale. Spazio tomati che va bene. andiamo a prendere i handi in sonda l'obiettivo non è cambiato, sfrutta questo nuovo treno di gomme per raggiungere e soppassare gli UIS continuo a fare del tuo meglio e cerca di ridurre il distacco dal pilota che ti precede, al momento è di 6 secondi andiamo 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 Ancora 3 giri alla fine Noi che addoraccio Bene, hai guadagnato una posizione Oh, l'ingegnere mamma mia Il nostro caro giugno è elettorizzato Metto questo, ma io devo andare Nella lingua indeghetto di Hamilton Non è un po' di più Grazie a tutti. Non supera i due secondi. Ricorda che puoi regolare il bilanciamento della frenata sull'asse posteriore per impedire il bloccaggio delle ruote anteriori. Il distacco dalla ventura che ti precede è di circa due secondi. Non so perché mi tolgo vieto. Prova il sorpasso solo quando sarai assolutamente certo di poter evitare il contatto. Non possiamo permetterci un incidente. Oh quanto sfiga eh. Me ne vuole per un altro. Me ne vuole per fare un altro. Sono dei depriti sui pneumatici. Aspetta che ti sa chi non cerca di restare sulla traiettoria ideale. E' una bassa vendetta. Attenzione. E' una bassa vendetta. Attenzione. Splendido. Sapevo che potevi raggiungerlo. Ora concentrati e arriva alla fine. E mi era super soddisfatto il suo sorpasso. Spero anche voi perché non è stato... Perché sono un quarto? Supermax. Da non ci vediamo chi ragazzi. Spero che non mi rallenta ragazzi bello 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 bello. Mi rallenta. Non ho fatto un giro migliore. Ho fatto quello di prima. Me ne può fregare di meno perché... Questo è il quarto posto. Tutti bene. Un po' cosa dice il... Il compagno di squadra di Hamilton oggi ha mostrato molta tenacia. Ha recuperato il terreno perso a causa di una portatura alla gomma posteriore e la posizione che aveva ceduto a lui. Va bene, me ne fare ora. Abbiamo avuto un po' i scenari. Ora è il mondiale. Abbiamo avuto un po' i scenari. 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 Niente, questo video è qui, su questa Mercedes, tutta per voi, un saluto da Philipsen e un saluto. Grazie.